Oggi mi ha chiamato il Presidente del Consiglio, la Presidenza del Consiglio, appuntamento alle 8 e mezza del 7 mattina, ma come sindaco di Napoli. Poi ci sono gli enti locali sulla manovra. 8 e mezza parleremo di Napoli, di Whirlpool e di un elenco di problematiche che io ho affidato con una mail. Ho ringraziato Palazzo Chigi perché sarà un incontro importante, dove parleremo della città, del piano strategico di Napoli, del debito di Napoli, della Whirlpool, di argomenti molto importanti. Alle 8 e mezza del mattino sarò puntuale, come sempre, 7 novembre, giornata importante. E poi avremo colto l'occasione per dare questa notizia che poco fa mi ha chiamato. Poi ci sarà l'incontro sulla manovra dove noi chiaramente chiederemo delle misure importanti. Però anche qui sono fiducioso perché ho avuto un lungo incontro con il Vice Ministro Castelli dell'Economia e credo che ci sono spazi perché in Parlamento possa essere migliorata la manovra per quanto riguarda gli enti locali e ci attendiamo da questo Governo delle risposte significative.